Sballordescenti M.T. Ayers, siete qui attirati dalla sete di conoscenza delle prossime uscite di Disney Plus previste a novembre 2021. Preparate pergamena e calamaio che si parte! Questo mese la faccio breve, le uscite di Disney Plus sembrano proprio interessanti e non voglio togliervi tempo alcuno alla scoperta del catalogo prossimo venturo. Lasciate solo però che prenda la bozza e vi legga la mia ode al topo del castello fatato che ci sta per regalare col tanto splendore. Ode a te, topo del castello fatato, che ci sta per regalare col tal divertimento per Cinniboccia e signori con la sindrome di Peter Pan. Noi siamo qui che ti ossequiamo rispettosamente e non vedi allora di elargirti i nostri sghetti? Inizio la rassegna delle uscite con un film acquatico e pauroso, Underwater, disponibile dal 5 novembre. La storia parla di un gruppo di lavoratori minerari stipati all'interno di una struttura estrattiva e di ricerca piazzata a ben 10 km di profondità e a 8.000 km dalla costa più vicina. Cosa mai potrà andare sorto in tutto questo? Ovviamente non la rottura di un fusibile o magari problemi con il riciclaggio dell'aria. No, 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 deve per forza arrivare il mostro marino di turno che non è Godzilla. Ma vi pare? Io non lo so. Dai, un po' di rispetto per il re dei kaiju. Comunque, dal trailer è già palese il livello di azione estremamente lontano dal plausibile, ma alla fine se intrattiene ben venga, dai. Adesso passo a parlarvi di Dope Sick, dichiarazione di dipendenza, in uscita il 12 novembre. In questa serie con protagonista Michael Keaton ci addentreremo in un mondo che a noi italiani dovrebbe far molta paura, quello di Big Pharma. L'argomento sarà incentrato sulla pesante dipendenza da opioidi che un'azienda farmaceutica avrebbe instillato in una comunità mineraria della Virginia. Ci sarà tutto il passaggio tra consigli di amministrazione, DIA e cittadini inguaiati nella situazione. Si tratta ovviamente di finzione, ma sotto sotto ci vuole anche parlare di un problema reale degli Stati Uniti d'America. Arriva il primo dei due film da poco rilasciati anche in sala, parlo di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, in arrivo il 12 novembre senza alcun pagamento aggiuntivo. Ho già fatto ampia recensione, che vi consiglio assolutamente di recuperare, di questo film che vivi al cinema. Per riassumere la storia di questo supereroe Marvel in salsa asiatica, che ha avuto un ottimo successo, tecnicamente ben fatto, ma con una trama povera e personaggi poco profondi ed espressivi che sembrano in balia di eventi scontati e senza un reale super cattivo di contraltare. Eh sì, per me è giusto un film mediocre, ma ovviamente da vedere, altrimenti non si capisce un tubo di questo fase 4 Marvel. Ora è il turno di un film reboot di una saga cinematografica che ha fatto la storia. Mamma, ho perso l'aereo, sì, avete capito bene, è inutile che lo ripeta. Ed è in uscita il 12 novembre. Proprio così hanno fatto una serie su di un film dei più noti del decennio, anni 90. Preparatevi perché è solo l'inizio del passaggio di decade per i nuovi reboot. Ovviamente dal trailer la trama, che anche se opportunamente ammodernata, è palesemente la stessa di quasi 30 anni or sono. E quasi temo di rivedere anche le stesse trappole. Oggi giorno tutto si risolverebbe con una videochiamata. Ma voi gustatevi pure questo. Eccoci al secondo film arrivato in sala qualche mese fa. Parlo di Jungle Cruise e in arrivo il 12 novembre. Un po' monotona alla Disney questo mese con le date di uscita. Comunque la storia vuole riprendere quella delle famose attrazioni dei parchi a tema Disney. Per rilanciarne l'interesse nel pubblico. La scelta di The Rock e di Emily Blunt punta ad attirare pubblico di ambo i sessi. Ma chi l'ha visto mi ha detto che fa il verso ad Indiana Jones. Ma al massimo può competere col quarto capitolo o magari il terzo della mummia. Storia esagerata e poche risate. Io però confido nel film fracassone da vedere per sgomberare la mente senza pensare troppo alla sensatezza di quello che succede. Non poteva mancare una serie Marvel in stile animato e il soggetto è Hit Monkey in arrivo il 17 novembre. Se anche voi non sapevate nulla di questo personaggio benvenuti siete come me. Io però per fare questo trafiletto sono andato ad informarmi un pelo. Purtroppo non leggendo i fumetti Marvel sono abbastanza limitato. Ma ho scoperto che è un personaggio creato non più di dieci anni fa e proveniente da Terra 616. Si tratta ovviamente di un macaco cresciuto in un clan di macachi come assassino in quello che là è comparabile al Giappone. E ovviamente conosce le arti marziali. In questa serie però sembra sulla terra del MCU e allevato da un assassino per combattere. Dal trailer non sembra male ma aspettiamo di vedere Hit Monkey in azione. Ah giusto, Takei presta la voce a uno dei personaggi. Ancora una serie Marvel per concludere. Un ciclo. Si tratta di Hawk High in uscita il 24 novembre. Già dal titolo dovreste aver capito che si tratta di una serie incentrata su occhio di Falco che non è certamente il miglior personaggio del MCU apparso sul grande schermo in questi ultimi 15 anni. Ambientazione comunque è quella post-blip a New York. E il nostro Clint si imbatte in una minaccia del suo passato proprio mentre vuole tornare a casa dalla famiglia per Natale. Decide così di allearsi con una sua fan di soli 22 anni, arcera pure lei, per smascherare la situazione. Io ho parecchi dubbi anche dopo aver visto il trailer e mi domando se ce ne fosse realmente bisogno. Felice però di essere smentito dai fatti. Potrebbe sembrare che abbia finito per questo video, ma ormai mi dovreste conoscere. Quindi sì, ho tenuto da parte tre suggerimenti di visione, tutti per voi. Prima però non dimenticherò mai di ricordarvi di mettere il mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornati di tutte le novità del canale. Se poi spammate anche questo video sui vostri social, siete proprio dei ganzi. Parola ormai desueta e vago ricordo del periodo paninaro italiano. Vi regalo un ricordo. Ma veniamo alla prima serie The Premise, questioni morali, in uscita il 3 novembre. Serie antologica che in ogni episodio si prefigge di parlare di argomenti etici sempre importanti e da non dimenticarsi. Passo poi al mondo secondo Jeff Goldblum, con la seconda stagione in arrivo il 12 novembre. Non dovrebbe esserci bisogno di spiegare questa serie divertente e dei fini documentaristici che risulta un ottimo passatempo. Vado poi con il cortometraggio Ciao Alberto, disponibile dal 12 novembre, che è uno spin-off del film Luca, e non voglio proprio perdermelo. Ora è arrivata davvero la fine, fine, ma proprio la fine finissima di questo video. E noi ci si vede al prossimo M.T. Ayers. Ciao!